salve a tutti ecco ci siamo buttati in queste serie forse l'ultima su questo canale youtube di enter the gungeon ma perchè perchè c'è un motivo perchè sto perchè posso esserci novità non so io sto registrando un certo anticipo quindi nel momento in cui registro non so se effettivamente queste novità ci sono state oppure no quindi questo non saprei dirvi ora semplicemente quello che so è che adesso iniziamo qui è la dragorai ma la poster lega ok ok ecco ci sono pure i maledetti ok ma poi ma spara pochissimi colpi c'ha sto coso è iper efficace ma c'ha pochissimi colpi c'è il senso ogni singolo colpo ha una sua efficacia però ok abbiamo finito tutti oh perfetto allora allora mi è unico qua ove è possibile serviranno nei cuori ove è possibile serviranno dei cuori per i nostri palloni nei cuori serviranno i cuori i cuori i cuori ok allora c'è solo una strada e quella strada porta lì quindi mettiamo qui ok ferrol 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 ah ah oh ah che ah porca miseria ok dai meno mai oh ma dai si vabbè però che scatole oh e su due vabbè meno male che avevo due corazze ah ancora ok abbiamo finito allora qua c'è un vendolo gli do un attimo un'occhiata giusto per capire ok bomba crepaccio ferrol ferrol perché mi ha cambiato la la oh vabbè full metal jacket che cos'è buh vabbè qua è dove posso mettergli le armi quelle che ok 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 ma che pascoli ah faccia cazzo non c'è nient'altro ah ed era un altro ingresso ok perfetto quindi a sto punto passiamo da qui e andiamo di là oh ho finito ah era solo sto cosa vabbè ok 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 allora poi cosa c'è io ok ok c'è una chiave c'è una chiave servirà a liberare qualcosa ma non so cosa e quei cosi lascio lì per come sono oh oh no porca miseria eh sì vabbè non va bene non va bene sta cosa non va bene sta cosa no eh eh ho seccato l'ho seccato mi stanno finendo munizioni qua perfetto qua c'è un'altra cassa io non ho chiavi non ho chiavi non ho chiavi per le casse ah ok vabbè io spero di riuscire almeno a liberare la persona che devo liberare qua c'è il boss perché c'è una persona liberare questo l'ho capito allora attenti qua mi dai che devo passare ora tenta di corazza un colpo esiste un colpo in più posso esiste un colpo in più ah ah ok quest'amma gliela andiamo a dare qualora qualora ah qua c'è ok ok mmm ok ma che scatole ok difesa effimera ah ma vabbè effimera vero vabbè io sto finendo tutte le armi buone comunque ah ok e qua ci sarà un altro io voglio una ah ah più tanto libro questo con la chiave quella lì ok 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 qua che c'è nell'altare l'altare è vuoto non fare niente eeeh va bene quella c'è una super mega cassa super mega drive porca miseria adesso mi servivano le chiavi non posso prenderle non posso avere chiavi da nessuna parte adesso che mi servivano ahhh e adesso ho fatto perché le ho fatte tutte adesso però oh una chiave ce l'ho e che posso prenderla chiave aspetta andiamo qua che se cassa questa reale super mega drive dai e tu sei balestra a mezzaluna colpo lunare aspetta eeeh 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 io non capisco ahhh 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 era perché era perché il veleno ok e non lo capivo sta cosa allora io direi iniziamo qua però io essenzialmente non me con que ahhh mezzo cuore si 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 nice nice mezzo cuore nice allora poi andiamo qua ahhh rompiamo questa perché tanto cazze non chiavi non ne abbiamo più per questo livello quindi tanto vale romperle sperare in qualcosa non so cosa ma qualcosa allora andiamo qui andiamo andando qui ok ho una buona mira niente ci sono altre casse no allora io ho finito le munizioni di di quelle due armi quindi ferrolver allora ferrolver si è questa che ormai ho le munizioni finite mi dai fragile e letale max non credo di aver fatto un buon affare comunque signori vediamo cosa riesci a fare penso nulla di buono ma proviamoci ma proviamoci diciamo questo il livello è il massimo che si vabbè ok si non riesco a capir chunga hey 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 no 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 mamma mia fa schifo sta erba fa schifo fa schifo eh si ma io sono pure torna al barco ok 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 io ho liberato un tizio io ho liberato un tizio io ho liberato un tizio ho liberato dovrei averlo liberato un tizio e se l'ho liberato dovrebbe soltarmi qualcosa qualcuno da qualche parte non lo so allora qua salve qualsiasi mi ha scopo qui vabbè non lo sai tu non sai qual è il tuo scopo va bene ok da queste parti ci sono novità qua no perché io ho liberato un tizio ma non è un tizio che parlava strano niente non succede nulla è tutto uguale è tutto uguale tutto come sempre bene bene facciamo così questa manata sarà durata un po' meno del solito e me ne chiedo scusa ma perché allora potrebbe essere l'ultima puntata qui su un canale youtube questa ma c'è un ma c'è un ma e e quel ma non so se non allora o ve l'avrò annunciato già ufficialmente perché non so ancora nel momento in cui sto registrando sto registrando con un po' di anticipo ecco rispetto alla puntata che sto registrando tipo due settimane prima questa puntata farvi capire c'è da vedere un po' di cose c'è da vedere un po' di cose e dobbiamo vedere cioè se sono riuscito a farla probabilmente l'avrò già annunciato a qualche altra parte in qualche altro video però se quella cosa voglio fare sono riuscito a farla partire possibile che questo questo gioco lo si ricominci a vedere da un'altra parte non aggiungo altro se non sarà così se non riuscivo a fare quella cosa continuate a vederlo qua sul canale youtube ma secondo me da quell'altra parte potrebbe essere meglio vedremo detto questo molto semplicemente saluto tutti quanti a voi alla prossima grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti